Un anno fa Agropoli visse una delle sue giornate più difficili. Le forti piogge causarono un alluvione che colpì alcune zone della città, creando danni e disagi ad attività economiche e commerciali, ma anche a privati cittadini. Nei giorni successivi ci fu la corsa da parte dell'amministrazione guidata da Roberto Antonio Mutalipassi ad organizzare misure per esercire i danni e per dare ai cittadini i giusti indennizi. In primis fu il governo a dare il diniego allo stato di calamità naturale e dunque ai ristori, ma l'amministrazione si rivolse alla regione, all'amico Vincenzo De Luca, con tanto di fotoricordo. Oggi però arriva la brutta notizia per cittadini e commercianti. Non ci sarà alcun indennizio per coloro che hanno subito danni durante l'alluvione del 19 novembre 2022. Ad informare di ciò è la regione che spiega anche i motivi della decisione, principalmente perché ci sono stati degli errori nella modulistica presentata, nonostante sia stato proprio palazzo di città a fornire le documentazioni. L'ente regionale i fondi le ha stanziati, ma in essi non rientrano gli agropolesi, o meglio non ancora, perché il comune, dice, è in attesa di linea guida. Infine, in una comunicazione ufficiale, il sindaco ha indicato ai propri concittadini la strada da seguire. Si rammenta, si legge, che c'è la possibilità di ricorrere al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli per tutelare gli interessi lesi.